Mi piaci tu, un romanzo di Antonio Petrazzuolo e Veronica Famà, storie d'amore ambientate in Napoli, finalmente capitale europea, lontana dalle sue quotidiane emergenze. Siamo alla rubrica Lo scaffale di Carlo De Cesare. Napoli è una città che ha tanti problemi e c'è chi lo fa quotidianamente a raccontare le sue cronache, quindi abbiamo deciso di regalare a Napoli la sua storia fatta di ragazzi che sognano, amano e cercano di realizzare un sogno. Soprattutto i 17 anni potranno apprezzare questa storia sviluppata tra le vie di Napoli, i personaggi che si possono incontrare nelle strade di Napoli, sempre calorosi, sempre affascinanti, interessanti e noi abbiamo fatto questa scelta proprio per sviluppare una trama basata sulla fiction perché chissà, poi ogni storia può essere aperta attraverso un film. Vedremo, chissà, chi vi bravedrà, speriamo. Ed ora vi proponiamo le splendide immagini.